Tagba Buyukustun e Engin Akurek, una delle coppie più apprezzate della televisione e del cinema turco, continuano a dare buone notizie ai loro fan dopo i momenti difficili attraversati lo scorso anno. La celebre coppia, che negli ultimi mesi a Parigi ha preso una decisione improvvisa e si è fatta un nome, ha rilasciato ora importanti dichiarazioni sullo stato di salute di Engin Akurek. Nella sua ultima intervista, Tuba Buyukustun ha parlato dei progressi nella cura del cancro di suo marito e dei suoi preparativi per il suo ritorno sugli schermi. Ecco le dichiarazioni sincere e i dettagli di Tuba Buyukustun su come hanno superato questo difficile processo. Tagba Buyukustun ha iniziato la sua intervista raccontando a Engin Akurek i primi momenti in cui gli è stata diagnosticata la malattia. Quando notò per la prima volta il disagio alla gola di Engin, capì che qualcosa non andava. Quando disse che dovevamo andare dal dottore, ero segretamente preoccupata, ma non così preoccupata come lo era lui. Tuttavia, quando ci è stato diagnosticato, ci hanno diagnosticato. Il nostro mondo è crollato, il cancro alla gola era qualcosa che nessuno di noi si aspettava, dice. Dopo aver superato lo shock iniziale, Engin e io ci siamo concentrati sul processo di trattamento. Le sedute di chemioterapia e radioterapia sono state molto difficili, ma Engin è rimasto forte come sempre. La loro resilienza mi ha anche aiutato a sopravvivere. Grazie per aver guardato il video. Arrivederci, ci vediamo in nuovi video.